Permesso? Buongiorno, sono Giovanna Pusateri, la figlia di Cosimo Barletta. Mi hanno detto che dovevo presentarmi. Ah, sì, 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 prego. L'ispettore Fazio. Che siete? Commissario Montalbano sono. Prego, si accomodi. Quando è stata l'ultima volta che ha visto suo padre? Una settimana fa. E chi le ha dato la notizia? Mi ha chiamato Arturo, mio fratello. Mi ha chiamato subito. Quando? Era stamattina presto. Io avevo appena svegliato i miei figli. Dovevamo andare a fare una scampagnata. Senta, suo padre aveva dei nemici? Credo che l'elenco sarebbe lungo. Ma io non saprei fargli dei nomi. Papà non aveva un buon carattere. E negli affari non andava tanto per il sottile.